La radiologia dell'SL di Biella a fine dello scorso anno si è rinforzata grazie all'arrivo di due nuovi medici Vittorio Longo ed Elena Bozzo. Entrambi sono biellesi e dopo essersi specializzati rispettivamente a Novare e Torino a distanze di poche settimane tra novembre e dicembre hanno preso servizio presso la radiologia dell'SL di Biella. Vittorio Longo, 32 anni, si è laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia nel 2017 Elena Bozzo, 32 anni, si è laureato in medicina e chirurgia nel 2018 Come buona parte del Servizio Sanitario Pubblico Nazionale la radiologia dell'SL di Biella risente di una carenza di professionisti che escono dalle scuole di specialità. Così ha commentato il direttore Stefano De Bernardi L'arrivo dunque della dottora Longo e della dottoressa Bozzo è fin da ora una premessa importante per il supporto dell'attività clinica dello staff una risorsa per la struttura in ragione proprio della loro professionalità e il fatto che siano entrambi biellesi è un aspetto in più che ci fa piacere perché significa che hanno scelto radiologia a Biella come un'opportunità nell'ambito del loro percorso. La richiesta di prestazioni radiologiche al Presidio biellese, così come avviene in tutta Italia, riscontra un trend in costante aumento e nonostante la consistenza d'organico di radiologia, le attività organizzative messe in campo a livello aziendale e regionale hanno consentito nel 2023 volumi di attività importanti. In base poi alle linee guida, oggi buona parte dei pazienti oncologici sono sottoposti a molti più controlli rispetto soltanto a pochi anni fa con risultati attesi migliori sia sul versante clinico che in riferimento ad un utilizzo appropriato dei farmaci.